Ciao amici di Che Cucino, sono nella mia cucina ed oggi preparo una parmigiana di zucchine. Preparo la salsa di pomodoro con olio extravergine di oliva, sale, un pizzico di pepe e lascio cuocere. Lavo le zucchine, le prevo delle estremità e le taglio. Faccio delle fette lunghe e sottili. Poi taglio del fior di latte a pezzetti. Cospargo una teglia da forno con del burro, metto sul fondo del sugo di pomodoro al quale ho aggiunto della panna da cucina e inizio a fare degli strati con le zucchine, il sugo e il fior di latte. Poi metto la parmigiana in forno per un'oretta a 180 gradi. La ricetta si conclude così, con un piatto semplice, leggero e gustoso. Grazie per la visione!